Nel campo della fotografia ha iniziato ad esporre nella sua Sicilia nel 2000. Dal 2009 partecipa a diverse mostre individuali e collettive a Roma, in Campania, a Bologna e poi anche in Grecia e a Los Angeles. Ha vinto diversi premi del settore fotografico come il premio Articolo in Quart nell'ottobre 2010 e il Premio Basilio Cascella nel maggio 2011. Esegue anche lavori autobiografici in autoscatto e video. Come attrice ha esordito a teatro nel 2004 con lo spettacolo Fumo negli occhi. Dal 2005 al 2008 è impegnata a teatro, dove partecipa ad altri spettacoli. Nel 2007 esordisce al cinema come comparsa nei vicere. Nel 2012 prende parte a un episodio del giovane Montalbano. Viene scelta da Bernardo Bertolucci come protagonista del suo film Io e te. Tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti. Per questa sua interpretazione è candidata al David di Donatello per la migliore attrice. Protagonista nel 2013. Nel 2013 compare nel videoclip del brano Testamento di Franco Battiato. Mentre nel 2015 è protagonista del videoclip di Io e Anna di Cesare Cremonini a fianco allo stesso. Cantante. Nel 2015 interpreta Beatrice Mainagi nella serie TV 1992 con Stefano Accorsi. Che verifica�